Canale YouTube di Luigi D'Avo Anna Karenina di Nikolaievich Tolstoi Come vedete abbiamo inserito come copertina tre fotogrammi tratti dal film del 2012 il film drammatico appunto l'ultimo insomma che è stato fatto su questo film e su questo libro scusate in realtà ne sono stati fatti anche parecchi prima ecco di questo ultimo però utilizzeremo soprattutto anche nelle nostre slide dei fotogrammi tratti da questo film come vedete qui abbiamo in un certo senso il triangolo amoroso che è alla base del plot insomma dell'intreccio del libro cioè in mezzo Anna Karenina e ai suoi lati qui potete vedere a sinistra il suo marito che si chiama Alexei Karenina appunto e a destra l'altro uomo della sua vita cioè l'amante Alexei Bronsky si chiamano tra l'altro appunto Alexei tutti e due forse non a caso che cos'è Anna Karenina? Anna Karenina è un romanzo corposo per esempio un'edizione di circa 800 pagine scritto e pubblicato dal 1873 al 1877 in rivista su una rivista russa e poi nel 1879 in forma definitiva come romanzo autonomo separato dalla pubblicazione in rivista essenzialmente quindi si tratta di un romanzo basato sull'attualità poiché alcuni elementi insomma presenti nel romanzo fanno riferimento agli anni che vanno dal 72 al 76 quindi parallelamente si può dire alla stesura stessa del romanzo quindi siamo nel pieno del secondo 800 russo la seconda metà dell'800 è un periodo di rapidi cambiamenti nella società russa per seguenti fattori beh anzitutto la presenza di uno zar aperto a delle riforme che è Alessandro II poi la situazione della nobilità russa che è complicata come penso la situazione della nobilità in genere in tutta Europa la liberazione degli schiavi e l'emergere dei futuri kulaki cioè contadini l'ascesa della borghesia una nuova classe economica in parte ebraica la creazione della ferrovia Zemstov si dice più o meno in russo e poi a livello locale l'emergere di piccoli centri decisionali autonomi quindi di una democrazia locale come simbolo della nuova Russia industrializzata in via di realizzazione e di cambiamento ecco i cambiamenti sociali che avvengono nella seconda metà dell'ottocento sono riflessi anche nella trama la frase di apertura identifica il tema principale delle famiglie felici e infelici a questo proposito Tolstoi riflette sulla natura mutevole del matrimonio presenta criticamente il divorzio quindi non come una panacea o una risoluzione assoluta dei mali della famiglia perché non risolve i drammi è in questo in polemica con pensiero radicale e nichilista sull'amore libero molti sono i valori che vengono a scontrarsi in questo periodo ad esempio da una parte i valori importati occidentali francesi e inglesi in lotta con quelli della tradizione russa generalmente più apprezzati da Tolstoi la domanda di fede come può un nobile istruito ad esempio credere nel modo in cui crede il semplice contadino a partire da questo c'è anche tutta un'evoluzione del pensiero di Tolstoi che lo porta prima quindi ad allontanarsi dal modo anche superstizioso di pensare del popolo e poi piano piano a riavvicinarsi ai valori della tradizione la polemica con il razionalismo e le teorie sociologiche occidentali che quindi arrivano anche in Russia però ecco trovano in Tolstoi un critico ecco perché non Tolstoi non crede non ha una fiducia illimitata nella scienza o nella ragione Tolstoi è un uomo alla ricerca e come stavamo dicendo attraversa anche diverse fasi un po' come Dostoevsky se vogliamo no? diverse fasi nel corso della sua esistenza umana riflessioni diverse influssi diversi quindi di filosofie piuttosto che di modi di pensare e anche di modi di scrivere effettivamente diversi e questo appunto arricchisce molto anche il pensiero di Tolstoi e si riflette questa complessità nei suoi personaggi dicevamo che una delle tematiche più importanti su cui si riflette è quella del matrimonio effettivamente comunque il matrimonio così come era tradizionalmente inteso era un matrimonio combinato e che più delle volte come viene appunto nel caso del matrimonio fra Anna Carienina e il suo marito Alexei Carienin non corrisponde ad un sentimento sincero e quindi c'è in un certo senso il desiderio che si passi da un matrimonio combinato ad uno basato sull'amore molti sono gli esempi di matrimoni un po' falliti nel corso del romanzo anzitutto quello ovviamente fra Anna Carienina e scusate e Alexei Carienin ma anche quello tra Stiva Oblonski che è il fratello di Anna è di Dolly Stiva probabilmente ha sposato Dolly per i suoi soldi ufficialmente la ricchezza della donna rimane di sua proprietà nel matrimonio però di fatto il marito può ambire ad un miglioramento sociale sposando una donna di una classe sociale superiore indubbiamente anche la riflessione sulle classi sociali è molto importante in questo romanzo ad esempio nella Russia zarista c'era il divorzio beh non era certo facile ottenere un divorzio lo si poteva ottenere solamente infangando il coniuge e quindi magari moltiplicando le prove false su un coniuge colpevole di infedeltà in questo caso quindi il coniuge effettivamente il coniuge traditore poteva perdere la potestà genitoriale i diritti sui figli e questo è anche qualcosa che possiamo intravedere in questo romanzo Tolstoi mostra l'ipocrisia che circonda le relazioni extraconiugali e ce ne erano parecchie e descrive le complicate procedure per il divorzio senza farci capire se approva o non approva il divorzio o comunque presentandocela come abbiamo già detto prima non come una risoluzione assoluta totale definitiva di ogni tipo di problema all'interno della famiglia ci sono delle crisi le crisi sono dovute più che altro ci fa capire Tolstoi alle debolezze degli uomini e la cosa che veramente lo lo disgusta è il modo con cui queste relazioni extraconiugali vengono trattate o nascoste quasi quasi ci fa capire da questo romanzo preferisce chi ha il coraggio di venire lo scoperto ecco ci sono molte coppie nel testo potremmo osservare questo testo questo romanzo anche come un girotondo se vogliamo di coppie che illustrano le varietà delle relazioni possibili ad esempio prima abbiamo visto abbiamo parlato di tante criticità all'interno del matrimonio ma non è sempre così una di queste coppie invece sarà una coppia essenzialmente sostanzialmente felice la trama si muove avanti e dietro da una coppia all'altra alcune affinità vengono rilevate tra individui al di fuori delle coppie ad esempio c'è un'affinità tra Vronsky e Kitty tra Levin e Anna quindi una certa penso giovialità e passionalità in Vronsky e Kitty e una certa coerenza morale e anche in medesimazione dell'autore stesso nei personaggi di Levin Costantin Levin e di Anna il vero cuore del romanzo sta nei personaggi appunto più sentiti dall'autore che sono come abbiamo vi abbiamo già detto Anna Karenina Costantin Levin e Dolly quella donna moglie insomma tradita dal marito Stiva ecco gli adulteri anzitutto sono Vronsky e Anna che rappresentano il cuore drammatico del romanzo sono visti intimamente fino alle loro emozioni e ai loro sogni ma alla fine giudicati dall'esterno dal punto di vista di Levin Costantin Levin che è quasi un alter ego di Tolstoi e quindi giustifica alcuni aspetti di questo adulterio ma non tutti Anna è sposata con Alexei Karenin di circa vent'anni e più grande di lei anche Vronsky però l'abbiamo già sottolineato prima si chiama Alexei di nome quindi gli uomini di Anna si chiamano comunque nello stesso nome ecco un'altra coppia di cui abbiamo già parlato è la coppia tra Stiva Oblonsky e Dolly Stiva è fratello di Anna entrambi sono stati elevati da una zia Stiva è un gaudente viveur il romanzo inizia proprio con la notizia della sua relazione extracognugale Dolly è la sorella maggiore di Kitty Sherbasky insieme a Levin Dolly funge da fulcro morale del romanzo ed è madre devota dei suoi figli costretta a perdonare tra le lacrime il marito che continuamente la tradisce perché è di costumi leggeri l'altra coppia importante è quella di Costantin Levin e di Kitty Sherbansky la prima proposta di Levin a Kitty è respinta a causa di un primo approccio diciamo sentimentale molto blando comunque tra Vronsky e Kitty il rituale della seconda proposta quando ormai le attenzioni di Vronsky sono tutte indirizzate ad Anna e quindi non c'è più di mezzo qualsiasi tipo di distrazione ecco il rituale della seconda proposta il matrimonio sono tratti dalla vita di Tolstoi quindi ci sono elementi autobiografici l'abbiamo detto soprattutto quelli che ruotano intorno al personaggio di Konstantin Levin che è il personaggio decisamente più autobiografico del romanzo e ha preso a piene mani dalla sua stessa esperienza Tolstoi nel raccontare la storia della coppia appunto Konstantin Levin e Kitty Sherbansky Kitty è una versione junior di sua sorella Dolly perché anche essa dedita ai valori della famiglia quindi Kitty che pure all'inizio si presenta come una ragazzina molto divertita in realtà poi con l'andare del tempo mostra i suoi valori e quindi anche diciamo così il suo attaccamento alla famiglia poi ci sono altri personaggi minori e coppie minori come quella tra Nikolai Levin che è frantello di Konstantin Levin e di sua moglie Maria Nikolaevna detta anche Masha oppure di Sergei Ivanovich Kosnyshev scusate fratellastro di Levin con Varenka ancora Alexei Karienin e la contessa Lidia Ivanovna in realtà è una coppia nel senso che la contessa Lidia Ivanovna diventa sua confidente dopo la crisi del suo matrimonio e continua sempre di più a indurre Alexei Karienin ad essere inflessibile rigido nei confronti di Anna del suo tradimento del suo adulterio il vero dramma di Anna Karienina qual è? è una donna con un forte desiderio sessuale che è in conflitto con la sua visione puritana del sesso il libro può essere visto come un tentativo di venire a patti con questa contraddizione venire a patti con la coscienza nel senso che più e più volte Anna prova cerca di frenare i suoi istinti nel momento in cui vede vronsky balla con lui essenzialmente se ne innamora ma cerca in un primo tempo di restare fedele al marito poi l'atteggiamento stesso del marito che è abbastanza disgustoso perché lui è interessato più comunque all'apparenza che non alla sostanza dell'amore piano piano la conduce ad allontanarsi decisamente dal marito e a buttarsi a capofitto in questa relazione extraconiugale ma la sua coscienza comunque non è e non sarà mai a posto fino alla fine del romanzo ecco dicevamo che il romanzo incomincia proprio con questa frase tutte le famiglie felici sono uguali ogni famiglia è infelice e infelice a modo suo è una frase dicevamo abbastanza significativa e programmatica perché poi nel corso del romanzo si può vedere come le varie famiglie infelici siano infelici a modo loro per un motivo piuttosto che per un altro ancora altre citazioni tutte le ragazze del mondo erano divise in due classi una classe includeva tutte le ragazze del mondo tranne lei e avevano tutti i soliti sentimenti umani ed erano ragazze molto ordinarie mentre l'altra classe da sola non aveva punti deboli ed era superiore a tutta l'umanità ecco la singolarità l'originalità di Anna Carienina uno spirito forte diciamo uno spirito tormentato comunque diverso sicuramente dal comune ecco il rispetto è stato inventato per coprire il luogo a vuoto in cui dovrebbe trovarsi l'amore è una frase che ci fa capire siccome questo romanzo ruota intorno alla questione dell'amore e della fedeltà ci fa capire come per Tolstoi diciamo che l'amore dovrebbe trovarsi in quel posto in cui invece si trovano altre cose rispetto ma anche convenzioni abbiamo visto e apparenze sii cattivo ma almeno non essere un bugiardo un ingannatore ecco anche la sincerità è sicuramente uno degli aspetti che è molto presente in questo romanzo e viene apprezzata tutta la diversità tutto il fascino e tutta la bellezza della vita sono fatti di luci e di ombre c'è un continuo alternarsi infatti alternarsi di esperienza di situazioni e soprattutto nella vita di Anna Carienina si alternano appunto le luci e le ombre non ci sono condizioni alle quali una persona non può abituarsi specialmente se vede che tutti intorno a lui vivono allo stesso modo ecco la riflessione sulla società porta anche a questo nel corso del romanzo alle abitudini dicevamo alle convenzioni per cui uno si abitua a vivere in un certo modo amici che non saremo mai lo sapete voi stessi sia che saremo le persone più felici o più infelici questo è nelle vostre mani si riferisce questa citazione a quello che è il cuore della relazione fra Anna Carienina e Vronsky quando risulta chiaro a tutti e due che non potranno essere semplicemente degli amici o dei conoscenti e saranno sulla soglia sempre sulla soglia di una decisione da prendere una decisione spesso che ha i suoi pro appunto ma anche i suoi contro quindi è una decisione difficile comunque da prendere in un senso o nell'altro siamo tutti creati per essere infelici e tutti lo sappiamo e inventiamo tutti i modi tutti i mezzi per ingannarci a vicenda e quando uno vede la verità che cosa si deve fare questo rendo estremamente moderno questo romanzo riflessioni di questo genere la consapevolezza quindi l'abbiamo visto sin dall'inizio fin dalle prime parole del romanzo che la condizione dell'uomo è per lo più di infelicità e allora a questo punto cerchiamo solamente di ingannarci per illuderci di poter superare o vincere questa questa nostra condizione ontologica poi però ci rendiamo conto che non è possibile e allora cosa succede? ecco di fronte a questo ci sono varie strade una di queste e la disperazione la mia vita ora tutta la mia vita indipendentemente da tutto ciò che può accadermi ogni minuto non solo non è priva di significato come era prima ma è il significato indiscutibile del bene che è il mio potere metterci dentro l'illusione di Anna è quella a un certo punto di poter dare finalmente un senso alla sua vita questo rapporto d'amore dovrebbe riempire la vita forse questa forse questo è stato l'errore maggiore di Anna quello di aver creduto di poter fare a meno di tutto il resto e di poter riempire tutta quanta la sua vita dare un senso alla sua vita solo ed esclusivamente con questo rapporto amoroso passiamo adesso all'analisi di questo romanzo dal punto di vista delle tecniche narrative abbiamo già ricordato che l'arco di tempo della narrazione va da febbraio 1872 a luglio 1876 quindi essenzialmente si tratta di un romanzo che narra eventi contemporanei rispetto alla scrittura poiché la scrittura avviene dal 1873 al 1877 in appendice diciamo così sul romanzo a puntate piani temporali sfalsati la narrazione delle vicende delle coppie non è sempre perfettamente lineare dal punto di vista temporale a un certo punto la storia del rapporto tra Vronsky e Anna è più di un anno avanti rispetto a quella fra Levin e Kitty e poi occorre realineare i tempi spiegando al lettore che cosa è successo a Levin e Kitty nel frattempo mentre la storia di Vronsky e Anna era andata avanti gli spazi simbolici sono presenti in questo libro essenzialmente questi spazi Mosca percepita come il buon cuore patriarcale dei valori russi tradizionali il cuore dell'antica Russia quindi un qualcosa al quale Tolstoi si sente senz'altro legato al contrario San Pietroburgo è il centro di una fredda burocrazia con valori importati e stranieri quando pensiamo alla fredda burocrazia ci deve venire in mente immediatamente il marito di Anna Carienina che antepone appunto i suoi impegni di lavoro a qualsiasi sentimento a qualsiasi rapporto intrafamiliare e poi dicevamo i valori importati e stranieri perché San Pietroburgo è sicuramente una città più aperta a questi influssi e quindi secondo Tolstoi anche più debole per questo sono presenti nel romanzo anche altre ambientazioni come la campagna russa soprattutto relativamente alla vicenda di Konstantin Levin e l'Europa occidentale Solden in Germania e l'Italia che sono mete di viaggi di Anna e di Vronsky parentesi di felicità all'interno di una vita di un'esistenza che poi però sarà irrimediabilmente segnata in negativo da questo rapporto quindi sono delle ultime illusioni perché poi proprio dopo questi viaggi le cose volgeranno al peggio Anna Karienina è la tragedia di una donna aristocratica sposata con Konstantin Karienin che ha una relazione con Enrico Conte Vronsky la storia inizia quando compare una famiglia divisa che non è quella appunto di Anna e di Konstantin Karienin ma è quella di Dolly e di suo marito in fratti si tratta del fratello di Anna Karienina Stiva ecco chiamato così affettuosamente da Anna che ha un rapporto con una cameriera ecco e quindi tradisce la moglie Dolly malgrado il suo pianto la sua disperazione per essere stata tradita alla fine perdonerà il marito cosa che essenzialmente non avverrà per Konstantin scusate Alexei Karienin che sarà meno tollerante nei confronti di Anna nel momento in cui appunto scoppierà la passione tra Vronsky e Anna Vronsky è scapolo non ha moglie è ansioso di sposare una donna e dopo tutta una serie di forse avventure magari anche sguardi incrociati con la stessa Kitty e quindi donne libere alla fine si innamora di una donna sposata appunto di Anna il problema però è che Anna è già sposata appunto lei deve accettare di lasciare suo marito Karienin un funzionario del governo Anna in un primo tempo essenzialmente dice di no a Vronsky ma nello stesso tempo l'innamoramento per lui è talmente forte che alla fine è vulnerabile alle pressioni sia della morale delle convenzioni delle sue stesse insicurezze e dell'indecisione di Karienin ma poi diciamo che si lascia andare totalmente a questa passione perché intuisce che in questo rapporto può esserci un barlume di felicità Vronsky e Anna vanno a fare dei viaggi abbiamo già detto in Germania in Italia dove possono stare insieme però già in questi viaggi si intuisce che questa felicità è effimera di ritorno in Russia Anna viene evitata e diventa sempre più isolata e ansiosa evitata da chi? beh allora anzitutto dal marito che le aveva detto è imposto di non avere di non continuare questo rapporto con Vronsky poi evitata da tutta quanta la società di San Pietroburgo no? Vronsky può proseguire tranquillamente la sua vita sociale Anna no Anna è l'adultera e quindi additata a vista dalle persone della società bene di San Pietroburgo e questo Anna non riesce a un certo punto non riesce più a sopportarlo nonostante le rassicurazioni di Vronsky che le dice guarda a me tocca ecco anche continuare a frequentare l'alta società non ti devi preoccupare non devi essere gelosa Anna malgrado ciò diventa sempre più possessiva e paranoica per la sua immaginata infedeltà l'infedeltà di Vronsky e teme di perdere il suo amore nel frattempo si svolge una storia parallela all'interno del romanzo quella di Konstantin Levin un proprietario terriero di campagna che desidera sposare Kitty sorella di Dolly e cognata con il fratello di Anna Oblonsky ecco dicevamo l'intreccio di queste famiglie gli Scherbansky Kitty e Dolly Scherbansky e appunto gli Oblonsky che sono Anna e Stiva Stiva Oblonsky Konstantin Konstantin Levin deve proporsi scusate deve proporsi due volte prima che Kitty accetti quindi il rapporto d'amore fra Konstantin Levin e Kitty all'inizio è tutt'altro che facile semplice lineare poi però con l'andare del tempo andrà approfondendosi questo rapporto il romanzo descrive in dettaglio le difficoltà di Konstantin Levin nel gestire la sua tenuta il suo matrimonio le sue problematiche personali fino alla nascita del suo primo figlio credo che proprio la nascita dei figli contribuisca ad unire maggiormente i due sposi Konstantin Levin e Kitty a differenza di quanto avviene nel matrimonio fra Anna e Alexei Karenin è un romanzo coinvolgente al centro di tutto c'è la donna una donna che ovviamente deve fare i conti con una disparità una ingiustizia perché come abbiamo detto all'uomo essenzialmente è concesso avere avventure storie extraconiugali rapporti con donne sposate senza che ci sia sostanzialmente una grossa riprovazione da parte della società mentre una donna sposata magari che ha un rapporto con una relazione è subito bollata come un'adultera da emarginare Anna si è sposata con un benestante burocrate russo Alexei Karenin ma lascia da parte questo mondo che è un mondo artefatto quello appunto del marito per questo giovane ufficiale militare Conte Vronsky molto più vivo rispetto al marito che si evolve in momenti di estasi anche la passione arriva anche a momenti di estasi poi però c'è tutta una serie di gravi conseguenze la prima la separazione di Anna dal figlio che aveva avuto con il marito legittimo Alexei Karenin e poi Seriozza si chiama il figlio e poi una lenta spirale in cui viene coinvolta la coppia e soprattutto Anna il suo senso di colpa la sua insicurezza la sua gelosia e in definitiva la morte ecco da questo momento in poi quindi sapete che è un romanzo drammatico e quindi va a finire male per Anna però sappiate che insomma non vi voglio dire per il momento come va a finire comunque questo romanzo intorno al triangolo amoroso sono i due matrimoni contrastanti del fratello di Anna Stiva Oblonsky e di sua moglie Dolly Sherbansky e della sorella di Dolly Kitty col proprietario terreno Levin loro sono specchi all'interno di specchi creano una serie dinamica di vivaci confronti e riflessioni quella girandola di coppie quella variare della complessità dei rapporti amorosi di cui abbiamo parlato sin dall'inizio Anna Karenina è un romanzo famosissimo il capolavoro di Tolstoi insieme a Guerra e Pace è senz'altro uno che comincia a leggere questo romanzo si lascia trasportare da questo romanzo rimane legato adesso lui parla della Russia abbiamo visto ben contestualizzato nell'ambiente della Russia della seconda metà dell'ottocento questo romanzo eppure il suo romanzo è universale nel senso che i sentimenti le riflessioni che vengono fatte in questo romanzo come abbiamo visto riguardano tutti noi in qualsiasi tempo in qualsiasi luogo è molto importante la rappresentazione dei pensieri delle pulsioni inconsce le azioni contrastanti gli errori la felicità la tristezza soprattutto della protagonista Anna indubbiamente ma anche di altri personaggi importanti come dicevamo Constantin Levin e qui abbiamo ovviamente da una parte dicevamo un grande romanzo d'amore senz'altro ma anche un grande romanzo drammatico e tragico ecco Tolstoi si inserisce all'interno di un filone che è quello del realismo per cui l'opera d'arte non è semplicemente un'opera di invenzione ma è davvero un pezzo di vita tranche de vie si diceva e lo dicevano in quel periodo soprattutto i naturalisti francesi in realtà abbiamo già spiegato come Tolstoi sia un realista diverso rispetto ai naturalisti francesi se non altro perché i presupposti ideologici e filosofici di Tolstoi sono leggermente diversi rispetto a quelli dei naturalisti francesi comunque lui effettivamente quello che ha messo per iscritto è ciò che ha visto in prima persona nella società del suo tempo o che ha vissuto addirittura in prima persona nel caso di Costantin Levin l'autore ha visto accadere tutto ciò l'ha visto quindi lo mette per iscritto in relazione e quindi il suo romanzo forse perde di invenzione ma guadagna nella realtà nel senso che le cose che lui sta scrivendo in questo romanzo sono realmente accadute nella società del suo tempo ecco uno dei protagonisti è il freddo rigido marito di Anna Karienina Alexei Aleksandrovich Karienin un ministro di alto rango del governo uno degli uomini più importanti di San Pietroburgo più e più volte infatti il marito dice ad Anna che non riesce a capire quali sono le sue responsabilità e non riesce a giustificare il fatto che lui invece deve rispondere a queste responsabilità e quindi mette da parte dicevamo anche i sentimenti Karienin è un'ipocrita ligio al dovere intimidito dalle convenzioni sociali dalle apparenze soprattutto si sforza di presentarsi come un impeccabile uomo colto e capace ma c'è qualcosa di vuoto in quasi tutto ciò che Karienin fa nel romanzo legge poesie ma non ha sentimenti poetici legge di storia di politica ma sembra straordinariamente ristretto e chiuso di vedute non può essere accusato di essere un cattivo marito o padre ma mostra poca tenerezza nei confronti di sua moglie Anna o di suo figlio la cosa che a lui interessa infatti è questa di seguire ed essere coerente con le convenzioni con le apparenze e quindi effettivamente da un punto di vista esteriore è un buon marito nel senso che non ha relazioni estraconiugali come invece ce le ha Stiva però ecco di fatto manca il cuore diciamo così del sentimento nei confronti sia di sua moglie Anna sia di suo figlio Seriozza in tesse superficiali i rapporti familiari è più interessato alla reputazione sociale lo scopo principale della vita di Karienin sta nella sua carriera ecco adesso da questo momento in poi però vi dico vi dovrò anche anticipare il finale del romanzo quindi se non volete essere spoilerati magari interrompete qua e magari lo riprendete quando avrete finito di leggere il romanzo inaspettatamente Karienin perdona Anna davanti a quello che crede possa essere il suo letto di morte vediamo emergere quindi un'inaspettata profondità in Karienin verso la fine del romanzo però poi il burocrate insipide rimane l'immagine di Karienin scolpita nella nostra mente al di là di quello che può avvenire nel momento in cui c'è il finale tragico del romanzo Konstantin Lievin è il personaggio abbiamo detto più autobiografico del romanzo è un pensatore conservatore cioè che esalta i valori della tradizione russa i valori della campagna russa e quindi lui condivide molti dettagli della vita di Tolstoi ad esempio per quanto riguarda le dichiarazioni di Lievin nei confronti di Kitty sono molto simili al percorso esistenziale di Tolstoi e le sue dichiarazioni d'amore nei confronti della moglie e anche in generale i rapporti fra Lievin e sua moglie Kitty sono molto simili a quelli che ha Tolstoi con sua moglie insomma in Lievin traspare lo stesso autore anche nel film del 2012 l'attore che ha impersonato Konstantin Lievin ha dei tratti diciamo molto simili a quella che è l'iconografia di Tolstoi Lievin è un proprietario terriero appartenente ad una classe sociale medio-bassa ma generoso insieme ad Anna è il coprotagonista del romanzo mentre la ricerca dell'amore da parte di Anna termina in una tragedia il lungo corteggiamento di Lievin nei confronti di Kitty Cherbaskia alla fine si conclude con un felice matrimonio Lievin è un intellettuale è un filosofo ma applica il suo pensiero a questioni pratiche come l'agricoltura ecco un po' come Tolstoi evidentemente che ha studiato è un intellettuale però poi dopo si riappropria si vuole riappropriare sempre di quello che è il rapporto con la natura con la campagna e con la tradizione desidera essere sincero e produttivo in qualunque cosa faccia si dimette dal suo incarico nel governo locale perché lo considera inutile e burocratico ah anche prima stavamo parlando dei governi locali all'interno dei vasti territori della Russia zarista c'erano questi governi locali che rappresentavano hanno rappresentato già una prima sorta di esperienza di condivisione del potere da parte di quelle che sono le gerarchie nobili aristocratiche perché in questi governi locali c'erano anche personaggi di altre classi sociali Levin è una figura di spicco nel romanzo per lo stesso Tolstoi che ha modellato il corteggiamento di Levin e Kitty sul proprio corteggiamento sul proprio matrimonio la dichiarazione di fede di Levin alla fine del romanzo riassume le convinzioni di Tolstoi che pure in un altalenarsi di riflessioni spesso anche critiche nei confronti della religione man mano andando avanti negli anni si riaccosta sempre di più a quella che è la tradizione russa infatti qui abbiamo l'inizio della fase profondamente religiosa della vita di Tolstoi che ha seguito il suo completamento del romanzo Anna Karenina ecco qui abbiamo Ekaterina Aleksandrovna Shermaskaya Kitty una bellissima giovane donna corteggiata sia da Levin che da Vronsky all'inizio del romanzo e alla fine sposa Levin modellata sulla moglie reale di Tolstoi Kitty è sensibile forse un po' iperprotettiva scioccata da alcune delle rozze realtà della vita come vediamo nella sua reazione inorridita ai diari privati di Levin ma nonostante la sua indifferenza per le questioni intellettuali Kitty mostra grande coraggio e compassione di fronte alla morte quando si prende cura ad esempio del fratello morente di Levin Nicolai ecco adesso andiamo verso la fine del nostro contributo a riflettere sulla relazione tra Vronsky e Anna Carienina chi è Vronsky? è un ricco e accattivante ufficiale militare appassionato e premuroso nei confronti di Anna ma chiaramente deluso quando la loro relazione privata lo costringe a rinunciare ai suoi sogni di avanzamento di carriera il suo sogno sarebbe quello di sposare Anna ma quando vede che poi le cose non vanno esattamente come vi vorrebbe rimane un po' anche lui un po' spaesato Vronsky che Tolstoi aveva originariamente modellato sugli eroi romantici di un'età precedente della letteratura ha in sé qualcosa del solitario idealista e alpure al centro della sua personalità c'è un punto oscuro come se Tolstoi si rifiutasse di farci avvicinare troppo alla vera natura di Vronsky abbiamo detto che mentre certi personaggi come Anna Carienina e Levin in modo particolare ma anche la stessa Dolly sono analizzati con tutti i loro sentimenti più profondi forse non arriviamo mai fino in fondo al cuore di Vronsky a capire quali sono fino in fondo i suoi veri sentimenti infatti Tolstoi ci dà molto meno accesso ai pensieri di Vronsky rispetto agli altri personaggi principali del romanzo anche così Vronsky è più santo che demoniaco alla fine del suo romanzo alla fine del romanzo scusate e il suo rapporto con Anna è impeccabile anche se i suoi sentimenti verso di lei si sono un po' raffreddati alla fine lui effettivamente le è rimasto fedele comunque e solamente si sono creati fra di loro degli screzi ma non perché ci fosse davvero un rapporto con un'altra donna e quindi la gelosia di Anna era ingiustificata Stepan Arkadich Oblonsky detto Stiva così affettuosamente della sorella è appunto il fratello di Anna Carienina un aristocratico amante del piacere un funzionario governativo minore la cui relazione con la governante dei suoi figli quasi distrugge il suo matrimonio con Dolly Stiva e Anna condividono la comune tendenza ad anteporre la realizzazione personale sui doveri sociali Stiva però è incorreggibile mentre Anna ha una coscienza e quindi fino a fino a un certo punto ecco non si lascia andare Stiva invece procede nelle sue relazioni straconiugali nelle sue avventure poi Dolly comunque la moglie lo perdona malgrado tutto per Tolstoi la lassità morale di Stiva simboleggia le corruzioni della vita di una grande città come San Pietroburgo e contrasta con la potente coscienza morale di Levin che pure è il suo più grande amico tuttavia nonostante le sue trasgressioni l'affabile Stiva è un personaggio simpatico difficile da disprezzare per le sue battute perché dona anche pagine di leggerezza a questo romanzo drammatico adesso arriviamo dicevamo ad Anna Carienina e a quello che è anche la fine del romanzo Anna una bella donna sposata di San Pietroburgo la cui ricerca dell'amore e dell'onestà emotiva la rende diversa rispetto alla superficiale società del suo tempo l'adulterio di Anna la catapulta nell'esilio sociale nella miseria e infine nel suicidio ecco quindi la cosa che prima non volevo raccontarvi e adesso ve la devo per forza raccontare il fatto che Anna si toglie la vita all'inizio del romanzo infatti Anna ha visto una scena orrenda orribile cioè di un di un operaio delle ferrovie che viene travolto dal treno rimane molto scioccata da questa scena e prova e prova per questo ricordo di questa morte orrenda qualcosa di indescrivibile quindi tanto orrore sicuramente ma forse anche quasi un fascino che la porta poi effettivamente a togliersi la vita esattamente come era accaduta quel poveraccio cioè gettandosi tra le rotaie di un treno in corsa Anna è una persona meravigliosa in tutti i sensi intelligente e colta legge voracemente scrive libri per bambini mostra un'innata capacità di apprezzare l'arte quindi l'esatto opposto del marito che in realtà non è per niente colto intelligente sensibile manca totalmente di sensibilità in marito Alexei Kalienin al contrario della moglie fisicamente affascinante ma con gusto riservata cattura le attenzioni praticamente di tutti nell'altra società Anna crede nell'amore non solo nell'amore romantico ma anche negli affetti familiari come vediamo dalla sua devozione al figlio seriozza e dai suoi fervi di sforzi per conciliare Stiva e fratello con la moglie Dolly nei loro problemi coniugali e dalla calorosa accoglienza di Dolly nella sua residenza di campagna bello il rapporto dicevamo con la cognata che è un'altra donna sofferente anche lei Anna non detesta altro che la finzione considera suo marito Kalienin l'incarnazione appunto di questa finzione di questa ipocrisia della falsa convenzionalità che disprezza e questo provoca alla fine la sua morte perché si accogge nel non poter continuare a vivere accanto ad un uomo così gretto e meschino fa le sue scelte ma queste scelte la porteranno inevitabilmente alla morte la morte la morte di Anna il suicidio come l'amore è una forza pervasiva in tutte le principali opere di Tolstoi ma ha un potere speciale in Anna Carienina dove la morte della nostra eroina avviene in circostanze tragiche in un punto critico del romanzo abbiamo già superato la malattia prolungata alla morte dell'amato fratello di Levi Nicolai siamo stati anche al corrente del declino della relazione di Anna e di Vronsky ma nulla ci prepara completamente alla svolta radicale dolorosa degli eventi che chiude appunto questa sezione finale anche del romanzo nel corso della parte numero 7 del romanzo arriviamo a renderci conto che Anna è troppo fragile le sue paure troppo grandi lo stress su di lei da mesi di incertezza troppo faticoso eppure per molti di noi il fatto che lei si butti davvero sotto il treno sembra impossibile da capire avremmo come lettori tutti i motivi per aspettarci una fine tragica ma comunque il fatto che arrivi questa fine ci coglie impreparati è interessante notare che Tolstoi sceglie di inquadrare l'ultimo momento di Anna come fosse una finzione e la candela alla luce della quale aveva letto quel libro pieno di ansia inganni dolore e malvagità diva un po' più luminosa che mai il suo libro è pieno solo delle cose più oscure e preoccupanti della sua vita la candela con cui la legge con cui legge la sua vita legge il suo libro brucia più luminosa di quanto abbia mai fatto e poi si spegne è una specie di metafora di quello che sta per accadere in questo modo Tolstoi ci sta ricordando che Anna è lei stessa una finzione però ecco questa riflessione su Anna che legge un libro ha anche una funzione straniante se vogliamo cioè ci fa rendere conto come lettori che anche la sua storia è comunque una finzione letteraria più di questo sta dicendo che ogni vita non importa di chi è un libro che può essere letto come il suo lettore sceglie gran parte della vita quotidiana di Anna la rottura delle sue relazioni e la sua risolutezza e la sua scelta di fronte alla perdita di tutto sono il risultato diretto del modo in cui sceglie di leggere la sua storia anche alla sua morte Tolstoi non ci farà dimenticare questo e concludiamo quindi questo nostro contributo con questa riflessione sulla morte che è una riflessione anche sulla letteratura ah infine però ricordiamo appunto che ci sono state tantissime versioni di film anche fiction sceneggiati tv film tv oltre a drammatizzazioni teatrali di questo che è considerato un classico uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura comunemente visto semplicemente come un romanzo su una relazione extraconiugale che si conclude con un suicidio e qui il riferimento potrebbe essere anche l'altro grande classico del tempo cioè la Madame Bovary di Flaubert in effetti è un intraccio complesso di temi e di personaggi come abbiamo visto pubblicato e scritto dal 1873 al 1877 sulla rivista Ruski Vestnik cioè il messaggero russo di cui non fu pubblicata l'ultima parte così che la versione appuntata si concluse col suicido di Anna fu molto criticata dal regime la rappresentazione sarcastica di Tolstoi dei volontari russi che combatterono in Serbia la versione definitiva del libro apparve nel 1879 abbiamo già fatto riferimento anche a questo come siano importanti anche le reazioni dei vari personaggi dopo la morte di Anna Karenina così come è avvenuto anche nel romanzo della Madame Bovary con le reazioni alla morte della moglie suicida da parte dei mariti ripeto si tratta di un romanzo che lascia il segno che ci fa riflettere su tantissime tematiche abbiamo visto tematiche di carattere sociale e tematiche anche di carattere esistenziale e quindi riflessioni filosofiche sicuramente è questo il motivo per cui un romanzo di questo genere è rimasto nella storia della letteratura come un grandissimo romanzo e con questo vi saluto e vi rimando al mio prossimo contributo video di carattere didattico altri video didattici su a tuttascuola punto it di carattere a tuttascuola